L'autorità portuale come tutte le altre istituzioni del territorio è sicuramente un protagonista, un attore importante del complesso sistema di sostenibilità ambientale, protagonista perché deve realizzare interventi che con l'ambiente hanno molto a che fare nella sua attività ordinaria, protagonista perché vuole essere un attore importante, partecipe di quel progetto complessivo degli enti del territorio, delle associazioni, delle comunità di sostegno alla tutela, alla salvaguardia del territorio. Certamente questo sostegno, questa salvaguardia, questa tutela non deve diventare un vincolo assoluto, non fare nulla, non realizzare nessun intervento, non avere alcun intervento sul territorio, bisogna trovare il giusto punto di equilibrio tra le esigenze della comunità e degli operatori economici, per quel che ovviamente ci riguarda come autorità portuale e quelle che sono le assolute priorità della tutela ambientale. Stiamo cercando di farlo applicando con scrupolo e rigore tutte le normative che si riferiscono all'ambiente, stiamo cercando di farlo sostenendo, partecipando attivamente alle iniziative degli altri enti per diffondere una cultura della tutela ambientale. Grazie per la visione!